Sì, sono spiata. Mi sento guardata, specialmente quando prendo il bagno o quando mi sto spogliando. Ma è pazza? La mia indignazione viene dominata dalla pena che provo al pensare che lei ricorre a questo ignobile sistema! Non so se lei è stupida o vanitosa. Ciò di cui non può rendersi conto è che io posso avere tra le mie braccia tante donne e tutte più belle di lei. Non mi importa niente delle sue puttane. Farebbe meglio a non perdere tempo qui e andare a fare all'amore con la prima che le capita. Questa è la prima cosa intelligente che ho sentito da lei da quando è arrivata e le obbedisco.